Una faida familiare a colpi di arma da fuoco. Le immagini che vi proponiamo, riprese da una telecamera privata, dimostrano in maniera evidente come in città banali di verbi vengono risolti a fucilate e pistolettate. Siamo in via Giusti, nel quartiere di Settefarine. Sono quasi le 23.30 del 7 agosto dell'anno scorso. Due uomini, uno travisato addirittura con un sacco nero della spazzatura, impugnano le armi e sparano l'indirizzo di un'abitazione in cui risiede una famiglia composta da tre persone. L'obiettivo è un 44enne che poco prima si era reso responsabile di una violenta lite. Il colpo di fucile sfiorò la vittima, che in quel momento era sul balcone, e raggiunse l'infisso della casa, mentre la pistola si inceppò. A distanza di nove mesi dal gravissimo fatto criminoso, la polizia di Gela ha arrestato i presunti responsabili. Quattro le persone manettate, tre quelle denunciate a piede libero. Le manette sono scattate ai polsi di due pastori. Si tratta dei fratelli Massimiliano e Stefano Trubia, di 21 e 20 anni, che sono stati reclusi in carcere, mentre agli arresti domiciliari sono finiti il loro antagonista, Francesco Garfi, di 22 anni, disoccupato, ed il nonno materno di quest'ultimo, Rocco Ginardi, che lo ha spalleggiato nella vendetta, fornendo il proprio fucile da caccia legalmente detenuto. Devono rispondere a vario titolo di tentato omicidio in concorso, detenzione di armi e munizioni e minacce. I provvedimenti sono stati messi dal GIP del Tribunale di Gela, Veronica Vaccaro, su richiesta del procuratore Lucia Lotti e del sostituto Lara Secchaccini, nell'ambito dell'operazione denominata Revenge. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, lo scontro iniziale tra i fratelli Trubia e Francesco Garfi, che ebbe la peggio, avvenne poco prima delle 22 dello stesso giorno, ironia del destino nel parco della legalità, sempre all'interno del quartiere Settefarine. In quel posto la polizia rinvenne due spranghe di ferro, tre caschi da motociclisti, un tubo di politilene, due cartucce da fucile calibro 12 esplose ed un telefonino. La polizia ha ricostruito nel dettaglio cosa accade in quell'occasione, grazie anche allo supporto delle immagini di videosorveglianza. Garfi, tornato a casa, organizzò una pronta rappresaglia spalleggiata dal patrigno di 44 anni, dal fratello di 17, da un cugino di 16 anni e dal nonno, Rocco Cinardi, che uscendo di casa sparò un colpo del suo fucile per controllare che funzionasse. Fu l'anziano a consegnargli l'arma per sparare ai trubia quando li incrociarono nella zona del parco, ma i colpi non andarono a segno e il quintetto fuggì in macchina.